Oggi tutti insieme cercheremo di imparare Come fanno per parlare tra di loro gli animali Come fa il cane? E il gatto? La cinello? La mucca? La rana? La pecora? E il coccodrillo? E il coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Fa, 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 fa E il coccodrillo come fa? E il coccodrillo come fa? E il coccodrillo come fa? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.